Quando si aprivano in qualche modo anche gli archivi dove venivano conservate le storie, le carte geografiche, i documenti anche personali di quanti erano passati attraverso le terre di Russia dal 1919 alla fine degli anni Ottanta, si aprì anche una parte di archivi che riguardava le vicende belliche del 1940-45, quella che per loro è la grande guerra patriotica e in questi archivi si ritrovavano le carte geografiche e le mappe dei luoghi dove un'intera generazione di nostri concittadini, di figli d'Italia, aveva trovato una morte assolutamente silenziosa, una morte non eroica, una morte banale, una morte qualunque, una morte passata in assoluto silenzio, se non per la ferrea volontà degli alpini, parte dei due corpi di spedizione in terra di Russia, il primo partito nel 1941 e il secondo costituito e rinforzato nell'estate del 1942, la ferrea volontà degli alpini di ricordare quei ragazzi, di ricordare quella vicenda storica e umana, se non altro perché gli alpini, in quella colonna mozza all'ortigara, hanno scritto per non dimenticare, e quel per non dimenticare non è una frase che appartiene a chissà quale categoria intellettuale, non è una frase che esce da chissà quale penna altolocata, è la frase che esce dal cuore delle nostre madri, dei nostri padri, dei nostri fratelli, dei nostri parenti più stretti, i quali alla fine della prima guerra mondiale avevano gridato per non dimenticare, e nel corso degli anni avevano comunque voluto tenere fede a quel principio, un principio che si rifà alla storia dell'umanità, permettetemi questa retrogressione, si rifà il fatto che quando, davanti alle porte di Troia, antichissima e remotissima città dell'Iliade, Ettore si trovò a perdere la propria vita, ci fu la rivendicazione del diritto ad essere sepolto. Il ciclo della vita nella tradizione culturale occidentale ha un'alfa e un'omega e quell'omega è con gli onori di una cristiana sepoltura. Per i nostri ragazzi non ci fu questa cristiana sepoltura, ci furono le fosse comuni, ci fu l'oblio, ci fu la dispersione della loro memoria. Ebbene, quando nel 1992 cominciamo ad avere notizia dei luoghi di sepoltura dei nostri caduti, quando cominciamo a capire che potevamo dare una dignità e un ristoro alle nostre famiglie, quando abbiamo iniziato a capire che grazie al generale Benito Gavazza degli Alpini, allora in comando all'onor caduti, era possibile riportare a casa qualcuno, ebbene in quel momento abbiamo cominciato a vedere questa omega, richiudersi e questo cerchio ritornare a costituire un momento di conforto per le famiglie dei caduti e dei dispersi, un momento di conforto anche per noi iscritti all'Associazione Nazionale Alpini, che crediamo che la nostra associazione abbia anche l'obbligo di dare degna sepoltura e di curare il ricordo di quanti hanno combattuto e hanno perso la vita per le vicende storiche della nostra patria. Questa sera ritorna a casa la piastrina che apparteneva a Egidio Portolomiol. E' come riconsegnare, restituire, chiudere quel cerchio. E' come dire che questo giovane, questo ventiduenne, ritorna tra di noi. Non è un grande ristoro, un grande conforto. In termini concreti, non è schei, non è benedizion, non è storie. Però sapere che ritorna, sapere di avere recuperato un elemento che lo identifica, ci consente di chiudere una di quelle migliaia di pagine che nel libro degli Alpini e della gente per bene sono ancora aperte. Lo facciamo alla presenza del vessillo del gruppo della sezione degli Alpini di Marostica alla quale appartiene oggi la famiglia di Egidio. Alla presenza del vessillo della sezione degli Alpini di Treviso, di Vittorio Veneto e di Valdobiadene, naturalmente. Di fronte al glorioso labaro dell'Associazione Nazionale delle Famiglie dei Combattenti Ereduci di Terra di Russia che continuano a perpetuare il ricordo di quella gente che inevitabilmente si va a spegnere perché loro non ci sono più, i nostri veterani, i nostri Ereduci. La nostra memoria è corta, ma grazie alla presenza dei signori sindaci, grazie alla presenza dell'istituzione, che per noi è un'istituzione, l'arma dei carabinieri che rappresenta oggi l'esercito in armi, grazie a loro, grazie a voi, continuiamo a chiudere queste pagine invocando la pace, invocando le più belle benedizioni che ci possano essere ma soprattutto confermando che in quel non dimenticare ci sentiamo popolo, patria, ci sentiamo gente che ha un profondo senso dell'appartenenza. E questo senso dell'appartenenza ci deriva dal rispetto che abbiamo per il nostro vessilo tricolore. Possiamo anche sacramentare tutti i giorni, ma la bandiera nella quale si riassumono le gesta, le storie, si riassume il senso dell'appartenenza dell'Italia dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, dalla Val d'Aosta al Friuli, è quella che ci accomuna e ci accompagna. E noi la nostra serata, il nostro tardo pomeriggio, questo momento di comunione spirituale con loro che sono rimasti in quel famoso bosco di Betulle dove arriverà la primavera e con noi che siamo qua, questo momento di comunione lo iniziamo con l'alza bandiera. Tutti attenti! Alza bandiera! Alza bandiera! Alza bandiera! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Desiderata e voluta dal gruppo Alpini di Guia, desiderata e voluta da Alvise Canello, il capogruppo, condivisa con Valentino Baron, presidente della sezione. In questa logica ci richiamo ad ascoltare la messa, una messa di suffragio, non semplicemente una messa che anticipa quella della domenica. Una messa che dedichiamo a questo nostro fratello, ad Egidio Portolomiol, che finalmente, idealmente, concretamente attraverso il piastrino, ritorna a casa. Ci disponiamo in corteo, in maniera molto semplice, seguiamo le istruzioni ed entriamo nel centro VIFA, sede del gruppo e luogo dove ci sarà la celebrazione religiosa. Grazie. Grazie. Anche i nomi e la ricordo dei caduti della seconda guerra mondiale e che da questa giornata avrà una lapide particolarmente dedicata ai caduti e dispersi in terra di Russia. Altini a posto, altini attenti, onore ai caduti. 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 Tutti riposo. Le due madrine, rispettivamente del gruppo di guia e della sezione di Vagopiadene, la signora Elsa e la signora Gabriella, scoprono la lapide dedicata ai caduti e ai dispersi in terra di Russia. Tutti attenti! Grazie. 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 Che dice questa nuova stelle, il reverendissimo paroco di questa comunità, Don Romeo, che con tanta sensibilità ha dato la sua disponibilità oggi per la celebrazione di una messa a sopraggio, di quanti sono caduti in guerra e per il ricordo e la memoria nostra. La benedizione di questa stelle da parte di Don Romeo. Il Signore sia con voi. Tutti riposo. È il momento della commemorazione, attraverso le parole ufficiali, della figura di questo nostro caduto disperso alpino. Nato il 20 luglio del 1921 a Guia di Vagopiadene, con la famiglia trasferitasi successivamente in terra marosvicense, ma oggi è ritornato qua, grazie a quegli impescutabili destini che consentono di far ritrovare pensieri, uomini, azioni a distanza di così tanti anni. Un nostro amico alpino, proveniente dalla sezione della Valtettina, il Signor Giovanni Foppoli, attraverso un viaggio avventuroso, da lui compiuto nell'estate del 2017, nelle terre di Russia, là dove non c'è mai confine, là dove non c'è un punto di riferimento, là dove il paesaggio monotono, uguale a se stesso, non consente di avere segni di orientamento, tranne in qualche posto di Betulle, in qualche villaggio, in qualche chiesa ortodossa che si staglia in una piattura piattissima, dove solo il mulinare delle nuvole e il cambiare nel tempo meteorologico fa percepire le distanze e la grandiosità di quella terra. Proprio lui, grazie ai contatti creati in quei luoghi, ha ricevuto questa piastrina, poi consegnata alla sezione di Treviso, e per il suo tramite, arrivata in terra di Valdopiadele, arrivata nelle mani di Valentino Baron, il nostro presidente sezionale. E quindi la volontà, la ricerca, il desiderio di chiudere quel cerchio dal quale abbiamo iniziato, per l'Alfa che abbiamo presentato con il nostro Alza Bandiera. E dunque voglio che il discedente più prossimo di Egidio Portolognol, il nipote Ugo, si avvicini, ci raggiunga per ricevere la consegna della piastrina che rappresenta la memoria storica, la vicenda umana di un ragazzo di cui ha classe 1921. Grazie. 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 Alvise Canello che vuole consegnare, a memoria di questo momento, di questa occasione, vuole consegnare una testimonianza di questo rientro in patria, augurandoci che anche nelle vostre comunità, quando ci sarà l'occasione, possiate altrettanto degnamente suggellare la memoria dei vostri concittadini rientrati da queste lande così lontane, da queste memorie così distanti e ritornati a tutti gli effetti nel numero della nostra gente. Così vogliamo anche il rappresentante della sezione di Marostica, alla quale appartengono oggi i familiari del nostro Egidio. Certo, una fotografia insieme, insieme con il nostro parroco. Eccolo qua. In questa fotografia si riassume la volontà e il gesto di oggi. Non dimenticare che in una giornata che ci ricorda davvero l'autunno ci dà però uno slancio di speranza, un'idea di positività. Ci fa pensare al valore della nostra associazione, ai nostri ragazzi oggi impegnati nella colletta alimentare, nella raccolta dei generi alimentari per aiutare le associazioni che da domani avranno nuove scorte per procurare il pasto a tanti indigenti, per rifornire le famiglie più bisognose di qualcosa da mettere sotto i denti. Questa è l'alfa e omega oggi dell'Associazione Nazionale Alpini. Il ricordo di chi non c'è più, il dovere della memoria militare e quel principio che per ricordare i morti dobbiamo aiutare i vivi. Grazie per questa foto e grazie per questo momento mentre prende la parola il capogruppo del gruppo alpini di Gruia di Valdobiadene che ha voluto fortemente ufficiare questo momento e questa commemorazione. Grazie a tutti voi, tutti presenti e ringrazio alle autorità religiosi, militari e ai nostri camminiari. Grazie a tutti voi, grazie a tutti voi, grazie a tutti voi, tutti voi presenti, mi hanno parole, sono un po' ammazzonato, ho fatto il cinquantesimo che ero poi ammazzato, oggi sono più ammazzonato dell'ora. Grazie a tutti voi, grazie a tutti voi e tutti i presenti, buonasera. Grazie, grazie a te Alvise, vi saluto da parte di suo reverendissimo paroco. Grazie a tutti voi, grazie a tutti voi che siete intervenuti anche in questa cerimonia e in questo momento anche di coesione tra di noi. Ricordo solo alcuni passaggi che sono stati di importanza, non dobbiamo dimenticare mai la gloria, proprio per improntare una vita davanti a noi con un'altra persona pace. Quello che è stato è che ci aiuti a vivere e impegnarsi per la pace. Gesù ci ha detto, aveva detto che altri, che chissero stanno in pace, non gli altri operatori di pace, perché la pace bisogna costruire da giorno per giorno attraverso il servizio che è stato poco anzi iniziato, per il bisognoso, perché sono cose veramente incognabili, perché così non c'è giustizia, c'è pace, che si costruisce la civiltà della nuova. Buonasera a tutti. Grazie. Prende la parola il sindaco della comunità di Valdobbiadene, l'ingegner Fregonese. Buonasera, grazie. Mi unisco anch'io ai saluti le autorità e ai numerosi labari presenti questa sera dai gruppi sezionali. Egidio Portormiol questa sera è tornato a Guia ed è stato accolto con una cerimonia semplice, ma partecipata, commossa con un clima autentico e familiare. Ed è con questo clima che voglio dire ai familiari di Egidio che Valdobbiadene e la comunità di Guia sovranno sempre accoglierli. Quindi grazie davvero, grazie al Vise, perché la tua commozione è una commozione sincera e contagiosa. Grazie per aver saputo onorare e rispettare questo momento che lega ancora di più le nostre comunità. Non ho avuto il piacere e modo di conoscere il signor Giovanni Forpoli. se è con noi, eccolo. Signor Giovanni ben trovato. Con il bravo Gagliardetto delle sezioni da dove arrivi, complimenti Morbegno, gente del Quinto, Tirano, ecco comunque, gente del Quinto e come si suol dire, mai tardi, mai tardi. E anche qua siamo arrivati con questa consegna in maniera succinta il fatto che ti ha permesso di ricevere questa piastrina. Inattitutto vorrei ringraziare tutti per avermi fatto l'opportunità di assolvere l'impegno che mi sono preso con il mio amico Julio Icove di Paclo in Russia. Mi sono preso l'incarico e dico di parlare ai familiari questa piastrina. Ora sono contento. È un anno che ci lavoriamo con la collaborazione di molte persone, però in un modo onesto. Onesto, ripeto, perché tante persone lo fanno anche in altri modi. Sincero. E sono contento dal filo per avere assolto questo impegno. Io sono stato due o tre volte in Russia, una volta con la famiglia, una volta ho fatto il percorso della ritirata perché mio padre era in Russia, mi parlava molto bene della popolazione di Russia ed ho voluto conoscere quelle popolazioni. Ho avuto un fortuito incontro con questo Juni, un povero studioso, al di là del Don, fino al di là del Don, che ha voluto sapere da dove vedevo, ha voluto sapere un po' tutto. Abbiamo, come dire, abbiamo, ci siamo cambiati dalle corrispondenze, sono andato a trovarlo a casa sua, ho capito un po' tutto, qual era lo spirito dei russi nei nostri confonti e quello dei nostri alpini nei loro confonti. Ho avuto un grande onore, e questo mi sono contento, ma permesso, al di là del Don, di poter girare dalla sua città con il capello stile. Tutto qua. Grazie Giovanni, una testimonianza davvero straordinaria. Grazie. Chiude questo momento di ufficialità, prima di avere il conforto del Vindoner proposto dal gruppo di guia, chiude il presidente della sezione di Valdopiadene, Valentino Baron. Buonasera a tutti, autorità, civili e militari, galli artetti, labri e tutti. Grazie a tutti intervenuti a questo rientro di Egidio. Niente, vorrei solo ricordare il percorso che ha fatto questa piastrina. All'inizio dell'anno, un nostro consigliere, Giuliano Adami, ha detto hanno trovato una piastrina di Valenzi di Russia, che è un certo Bortolini, deve essere delle nostre parti. Bortolini, scusate. Bortolini, deve essere delle nostre parti. E con la ricerca che abbiamo fatto effettivamente era di guia. Nel percorso che abbiamo fatto è venuto fuori che Bortolini è del comune di San Pietro, e io ho detto, San Pietro, sono stati un po' su chi va là, a San Pietro. San Pietro non è nostro. Invece San Pietro faceva comune o no? Poi è passato, il comune è andato a Vadovialne, e così Bortolongal è nostro. Niente, c'è un po' suono. Siamo andati avanti con il percorso con gli amici di Marostica, abbiamo cercato di ritracciare i familiari e abbiamo ritracciato un suo fratello o... Tu sei il nipote e il fratello che hanno passato a 96 anni. 96 anni. Comunque, eravate originari di guia, partito da guia, a tre anni. Poi sono andati a Marostica e di lì è partito per la Russia e lì è rimasto. Abbiamo trovato la piastrina e adesso è ritornato qui in pace, è tornato qui a guia, adesso noi l'abbiamo consegnata ai familiari che abitano a Marostica e così via. Niente, è stata una bella soddisfazione e è un onore per noi avere qui questa piastrina che è il ritorno di Egidio. Cosa voglio dedicare? Benvenuto Egidio nella nostra terra natale e grazie a tutti quelli che hanno lavorato per questo rientro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La parola. Concediamo il nostro veredissimo paroco che alle sei e mezza ufficia la funzione religiosa del sabato e lo ringraziamo per questo momento. Ci sono dei gagliardetti da scambiare. prego Presidente. Lo vorrei dare un gagliardetto alla sessione intanto ai familiari di Egidio e alla sessione di Marostica che... Buonasera a tutti. Sono il vice Presidente perché purtroppo il Presidente è amolato in questo giorno, non è niente grave, speriamo. Comunque è una serata molto toccante. dopo tutte le parole che ha detto Stefano mi fatica anche a dire qualcosa di diverso, però speriamo ci siano altri rientri. Sono sempre benancetti e sono sempre commoviti. Grazie a tutti e buona serata e buona condivisione. Grazie. 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 Grazie a tutti. Buona sera. 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 Grazie.